Ben ritrovati, il film di cui parliamo oggi si intitola 45 anni, è un film di Andrew Haig con Charlotte Rampling e Tom Courtney, entrambi questi attori sono stati premiati quest'anno a Berlino come migliori attori protagonisti e la storia infatti è imperniata su loro due, sulla loro relazione, su 45 anni di matrimonio che stanno per essere celebrati in una festa, il film si snoda nella settimana precedente la festa, nella quale però oltre ai preparativi accade qualche cosa, accade che al marito viene notificata il ritrovamento del cadavere di una donna che era stata la sua compagna molti anni prima nel 62, quindi parliamo di 53 anni fa e che appunto era caduta in un crepaccio in una gita in montagna. Naturalmente questa notizia del tutto in attesa riapre almeno per un momento il trauma del ricordo e questo movimento genera non solo nel marito ovviamente un ritorno ad alcuni contenuti di quella relazione, che era una relazione molto importante ma che si è conclusa in quel modo e che era precedente all'incontro con la moglie, con Kate, interpretata da Charlotte Rampling, ma soprattutto suscita in Kate, in Charlotte Rampling, una reazione di spaesamento profondissimo. È come se appunto non riconoscesse più Geoff, il marito, lo vedesse agire in un modo che le fa pensare di non essere più in contatto con lui, nonostante 45 anni insieme. Ora a me è venuto il fatto di pensare che questo fosse un movimento che avesse due direzioni. La prima è appunto quello relativamente alla coppia, cioè la cronaca di una scissione, magari temporanea perché il film ha un finale abbastanza aperto in questo senso, ma una scissione della coppia, non una separazione. C'è un movimento in cui le persone smettono di riconoscersi nonostante lo abbiano fatto per lunghissimo tempo. E questa scissione è prodotta, secondo il livello della riflessione, da una presa di consapevolezza di sé e dell'altro e della relazione che viene dal tempo, o meno viene dalla memoria. Qui ci sono due elementi filosofici interessanti. Il primo è appunto che non si smette mai di conoscere se stessi, non si ha mai una piena conoscenza di sé e dell'altro, nemmeno in queste relazioni che, per come ci è presentata questa relazione di questa coppia, è una relazione tranquilla, senza figli, ma è una relazione comunque intensa, con molte cose in comune, con una condivisione piena. Eppure è come se, rispetto al motto dell'oracolo di Delphi, conosci te stesso, noi siamo sempre un passo indietro, non siamo mai capaci di conoscere veramente le nostre reazioni. Quindi le reazioni di Gioff sorprendono lui stesso, ma le reazioni della stessa Kate sono reazioni che la mettono a disagio con se stessa, sono reazioni che la costringono a mettere a fuoco un passato dell'altro, che in realtà fa pensare a lei di stare in una situazione su cui c'è il dubbio, o a legge il dubbio che si tratti di una cortina di fumo. Non uso a caso questa espressione perché la colonna sonora del loro matrimonio e del film include appunto questo successo strepitoso di una canzone degli anni 60 che era appunto Smokers in Your Eyes. Allora è una ovvia metafora, fin troppo ovvia se si vuole, da un punto di vista cinematografico, cinematografico, del fatto che appunto ciò che viviamo è sempre sull'orlo della possibilità che ci appaia in fondo come soltanto una cortina di fumo, soltanto fumo negli occhi letteralmente. E devo dire che la bravura di Charlotte Lampling in questo film è di rendere tutto l'attraversamento di questa presa di consapevolezza nel personaggio di Kate, fino anche a questo finale in cui lei crede e non crede alle parole del marito che le riconfermano in quella festa l'amore che lui ha per lei. Lei gli crede e non gli crede ed è in un completo disagio che è molto ben reso nella sua recitazione dalla postura del corpo. Charlotte Lampling ha un'eleganza naturale che non è mai venuta meno con gli anni, ma la postura della schiena, il movimento delle gambe, la camminata più ancora del viso che è molto espressivo, rendono questa instabilità, questa incertezza, come se noi appunto dovessimo sempre riattivare la vigilanza rispetto a quel che siamo e il modo in cui stiamo con noi stessi. Questo non vuol dire perdersi necessariamente, per questo il finale aperto mi sembra apprezzabile. Vuol dire dover riposizionare l'insieme delle cose che ci costituiscono e il ricordo, quando riaffiora poi in questo modo, in un modo come questo, è un elemento importante del nostro presente ed è la chiave di volta del futuro. Questo Sant'Agostino l'aveva capito molto bene. La memoria è l'organo del futuro in realtà. Quindi su questo punto il lavoro che ai due personaggi si presenta è un lavoro morale su di sé di grande impegno e il film ha il merito di mettere questo lavoro delle persone al centro di una dramma che ha una certa tensione, è ben coordinata, ci sono alcuni appesantimenti forse non necessari ma nell'insieme è un film di grande equilibrio. Quindi è un film interessante che vi consiglio senz'altro di andare a vedere. Grazie e arrivederci alla prossima settimana.